Un palazzo, una mostra, una sedia a rotelle, un lucchetto, un responsabile da trovare, una chiave da gestire. Comincia così il post di Ettore Garozzo, che racconta in poche essenziali parole l'ultimo caso di ordinaria superficialità avvenuto ai suoi danni. Parla di pessima capacità gestionale di Palazzo Moncada, in relazione alla fruibilità rispetto a chi ha problemi motori. È un rimpallo di responsabilità, tante verità, è un solo risultato quello che Ettore Garozzo, cittadino nisseno che si muove in carrozzina, espositore ad una mostra collettiva a Palazzo Moncada, non è riuscito a salire al piano nobile. I protagonisti, la Proloco che gestisce il palazzo, l'impresa che sta lavorando sulla ristrutturazione dell'altra ala e l'ufficio tecnico comunale. Se da un lato la Proloco si è trovata impreparata a gestire l'arrivo di un utente in carrozzina, cosa inammissibile nel 2022, a maggior ragione se l'utente era uno degli espositori, dunque non un fatto imprevisto, non si trovava tra l'altro una chiave che in realtà avrebbe dovuto avere. Dall'altro lato pare che la famosa chiave della discordia l'impresa non l'abbia mai lasciata. Certo è che lasciare una chiave di una parte di un cantiere è una grossa responsabilità per chi la dà e per chi la prende in consegna. A cosa sarebbe servita la chiave ad accedere al vano dove è presente l'elevatore a Palazzo Moncada? Tra l'altro ce ne sono due, uno per il primo piano e l'altro per il piano nobile. In realtà da più di sei mesi l'ingegnere capo aveva dato mandato agli uffici di trovare una soluzione definitiva a questo problema, soluzione che non è stata approntata. Si naviga a vista, si direbbe, ad oras e all'occorrenza. Una soluzione sarebbe potuta essere chiudere Palazzo Moncada per tutto il tempo dei lavori onde evitare problemi di qualsiasi tipo. Scelta che non si è voluta fare e che sarebbe stata ad ogni modo assurda se il problema era risolvibile con un corridoio in sicurezza creato appositamente che pare sarà collocato mercoledì.